grazie ma fanno vici? che sto facendo? ah stai facendo tu? vai a fare tu? grazie o meglio per la capoccia? grazie la capoccia, la capoccia, la capoccia la capoccia, la capoccia la capoccia se mi sono posto come piaceva a me l'ho vuole mettere长 do mo buono, lo posso rinca, non so i capelli ma capoccia ma? sa a posto? ando? la capoccia Poi le platte vengono a casa, la notte, le platte tornano e quando sono qui non tornano. E' dato importanza agli scemi, scusa. Va a te. Va a te. Va a te, hai capito? Va a te, tu sei il mio specchio. Ah ok, tu quando guarda a me specchi la tua scemità, giusto, è così? Sì, sì, perciò va a te, va a te. Una nuvola vera. Non sai che prima hanno fatto la burtana perché sei stata per la galleria, così. E' crudato questa cosa. Vabbè, non mi ha crudato. È un'unica, quindi, non mi ha fatto. Non un'unica. Ma in un'unica, ma in un'unica, si è accettato? È un'unica. Non è un'unica. Tutti qui, non è un'unica. Un'unica, è un'unica. Perciò, non è un'unica che mi ha fatto il momento. Benvenuti in un'unica. E' un'unica, ma a te, abbiamo fatto un'unica. la visualizzazione non ho fatto ma io non ho fatto bene il palato è il palato fattoci come mai sa azzè paracapocchi parucca paracapocchi capocchio paracapocchi parucca parupisce paravallare piscacci non che le nata cosa certi vigili non mi guardano in faccia quando stanno al lavoro proprio per l'imbarazzo perché se mi guardano in faccia mi hanno identificato e se mi hanno identificato chi sono? io grazie non mi possono identificare capito? allora si imbarazza ma io ero già ecco ti lascia piede e poi posso andare ah grazie ah ecco st'arenato zero ma ora st'arenato zero chi ci stai ci stai a non l'amora che faccia Grazie a tutti grazie, ciao, ciao non passare di là no, là no da qua oh, ok grazie, grazie, troppo buio, troppo buio una mare una maschera è offerta rosa, capito? un pagliaccio, un clown, non ha offerta rosa non so, non so, non so adesso è un pericolo, non so, non so io non direi che non è capocchia, direi che non è capocchia, direi che è un artista esagerato io sono serio e faceto, perciò mi fa piacere che mi chiamano sia capocchia che artista è la stessa cosa, è Davide Cristiano, come ti fai a prendere la serie in Davide? ma che silenzio stai a Piazza Pembicida con Renato Zero, che calma, che atmosfera, che atmosfera da camera mi piace e non guarda non guarda, non guarda e la da ne luca oh ma che fos ciao, ciao, ciao ciao ma è carica Ciao. Come è aspetta? E' il mio sogno erotico! Ma non è nemmeno, chi scrive? E' un maschio! E' il mio sogno erotico! E' il mio sogno erotico! E' il mio sogno! E' il mio sogno! E' il mio sogno! Guardate che pacco! Guardate! Chi è il mio sogno? Non riesce a San Giorgio con lui! Eeeeeee! Ma che sei il Giorgio? Eh, San Giorgio! Giorgio San Giorgio! Sì! Ragazzi! Uh! 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 Vai che no! Uh! La capaccia! Ma la pace! Eeeh! E' il mio sogno! Eeeh! La capaccia! Ma guardate la città! Ma guardate la capaccia! Ma guardate la capaccia! Bravo! Nicoletta! Buongiorno! Schi dono! Bravo! Eeeh! Ciao! Oh eh! Grazie! Ragamoggi! Ciao jest! Ok! La caping媽. grazie grazie le fatti felici le fatti felici sempre più persone conoscono la capoggia bravo ragazzi è un grande è un grande è un mito è un mito grazie 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 ma che ci stavola appena è un mito è meglio grazie 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 che zanna delicata grazie 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 è una settimana che non mangia pasta, facciamo mangiare fasù, tofu, zucchine, pommarola e un po' frutta, banana, mela, ma ci abbuffate già rosa, a ieri, mi sono ricredito, oggi ho abbuffato l'uovo, ho anche tutte diverse particolarità di pesche, e voglio frutti, ortaggi, terra mia, e sto frisca e tust, bello, bello, forte, mi sento forte, e sto ringiovanendo mangiando così, povere, siamo quello che mangiamo, Johann Sebastian Feuerbach.